In proiezione nei prossimi anni sarà veramente un piano di investimenti che ribalterà completamente la città. Nel giro di alcuni anni il volto di Silvi cambierà, ne è certa l'amministrazione comunale che a fine maggio ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024. La spesa in conto capitale per il 2022 è di oltre 10 milioni di euro e salirà a 31 milioni nel 2023. In particolare la Giunta avrebbe a disposizione quasi 14 milioni per la rigenerazione urbana e il PINQUA, il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare. Consiste in un piano ministeriale volto alla realizzazione di nuovi alloggi popolari e alla riqualificazione di quelle esistenti e delle aree degradate, puntando sulla sostenibilità ambientale. Inoltre sono attesi ulteriori fondi del PNRR. Mercoledì intanto il Consiglio Comunale dovrà approvare il bilancio consuntivo. Abbiamo recuperato il disavanzo, ha commentato il sindaco Scordella. Anche lì le notizie che abbiamo, dai dati, sono che comunque abbiamo recuperato un disavanzo importante perché siamo partiti da 9 milioni di disavanzo, siamo arrivati a quasi 700 mila euro, dunque recuperati 8 milioni di più. E veramente questa amministrazione ha fatto un grande lavoro. Questo è il primo bilancio post-Covid. Infatti i comuni non hanno più entrate statali straordinarie per la pandemia. Gli enti chiedono però interventi del Governo per contrastare il rincaro dei costi delle materie prime dovuto alla guerra in Ucraina. Tutti i comuni sono andati in difficoltà con l'approvazione dei bilanci di previsione, anche per il fatto del conflitto bellico, con gli aumenti dei prezzi, i contratti pubblici collettivi che si sono sbloccati. Dunque ci hanno comunque comportato un aumento di spesa sul fabbisogno del personale. Perciò sappiamo che i comuni sono in difficoltà proprio nella programmazione futura, anche perché i costi di energia elettrica e altre materie prime hanno comportato appunto questa situazione critica.